Maria Lucia Revisore-Porto Buonasera a tutti. Io sono nata a Djibouti, vivo in Italia da 29 anni e sono cittadina italiana da 10. Voglio subito raccontarvi un episodio per rompere il ghiaccio. Verso gli 11 anni tornavo da scuola e vedo mia madre in estasi. Mamma, che cosa è successo? Le chiedo. E lei, è arrivato il permesso di soggiorno rinnovato e ovviamente ero felice anche io. Però per curiosità vado a guardare il documento per il controllo che fosse scritto bene e così sul documento leggo Tegest e Semma, mia madre, coniugata con Tezzetta Abra. Cioè io. Le dico, mamma, dobbiamo andare a cambiare i documenti perché qui non va bene. Lei subito sulla difensiva. Tezzetta, io lì non ci torno. Ci sono andata già tante volte. Sai quanto ci ho messo per avere questo pezzo di carta? Per me va benissimo così. E quindi io non potevo fare niente e sono rimasta il marito di mia madre per qualche anno. Abbiamo precorso i tempi delle famiglie arcobaleno, insomma. Questo episodio che quando ci penso mi fa molto sorridere è solo uno dei tanti che ho vissuto in Italia e dopo 19 anni ottengo finalmente la cittadinanza italiana. La cittadinanza è quello di cui voglio parlare oggi. La cittadinanza è la condizione della persona fisica, il cittadino appunto, alla quale l'ordinamento di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. Il tema di questo TED è rinascita, ma per rinascere però bisogna prima essere nati. E il modo in cui nasciamo, che spesso viene dato per scontato, non lo è affatto e condizionerà le nostre vite. Ho pensato quindi di portare su questo palcoscenico le tante storie degli italiani senza cittadinanza che nascono in questo paese, crescono in questo paese e lavorano in questo paese e vorrebbero sentirsi cittadini di questo paese a tutti gli effetti. Per esempio, Edward Cristian Timbretti Guggio. Edward ha 16 anni, nasce a Cuneo, ha un forte accento piemontese, ama le lasagne, ma soprattutto ha una passione, i tuffi. Per ben 16 volte sarebbe dovuto salire sul podio dei campionati nazionali, ma come dice Edward, ogni volta che vinco divento un fantasma, scompaio letteralmente dalle classifiche. Pur potendo stare sul gradino più alto del podio, scalo direttamente al quarto posto. Niente oro per me. E questo perché Edward è figlio di genitori romeni e quindi dovrà attendere i 18 anni per essere italiano a tutti gli effetti e poter rappresentare l'Italia all'estero. E così per un grande campione, le Olimpiadi continuano a rimanere un sogno ancora lontano. Ora tocca a Great Naki, lei è piccolina, ha 14 anni, ma vuole in alto perché fa il salto con l'asta. Anche lei è nata a Torino, da genitori nigeriani, ma appena la vedi capisci subito che è italianissima, tanto che i suoi compagni di classe non sapevano che fosse straniera. Anche Great, come Edward, dovrà attendere i 18 anni per essere italiana a tutti gli effetti, solo che Great, la campioncina, supera un record, i 3,70 metri e non sappiamo ancora se questo record sarà considerato italiano oppure no. Il modo in cui nasciamo, vi dicevo, condizionerà le nostre vite e questi esempi sono abbastanza chiari. Ma Edward e Great toccano un aspetto fondamentale del tema. Sono dei minori e come tutti i minori sono affidati ai loro genitori. Ascoltando le varie storie mi sono resa conto di come sia multiforme il percorso che spinge una persona a richiedere la cittadinanza italiana. Dietro a ogni documento c'è una storia a sé. Voglio subito sfatare un mito. Per esempio, i genitori di questi ragazzi, spesso la cittadinanza italiana non la vogliono. Non la vogliono perché il loro sogno continua a essere quello di poter invecchiare nei loro paesi d'origine. E questo sentimento di nostalgia in qualche modo terrà incollata tutta la famiglia e anche i figli che nascono in questo paese, che si sentono italiani e che avranno molte più difficoltà a lavorare, ad accedere ai concorsi pubblici, a fare dei lavori che li portino a viaggiare, a fare delle competizioni sportive come in questo caso. Insomma, ad essere riconosciuti come cittadini a tutti gli effetti. Oppure questi minori rimangono invischiati in dinamiche molto più grandi di loro. Ricordiamo come fino a qualche anno fa il lavoro in nero in Italia era molto più diffuso e le tante badanti che sono venute a lavorare nel nostro paese non hanno potuto registrare la loro residenza. Questo ha fatto sì che i figli di queste badanti, anche se nascevano in questo paese, a 18 anni, non ricevevano in automatico il cedolino dal comune che li invitava a registrarsi come italiani se l'avessero voluto. Come il caso della mia amica Stella, la cui mamma ottiene la residenza solo due giorni dopo che nasce la mia amica. E così Stella scopre di essere straniera a 18 anni andando all'anagrafe per richiedere la cittadinanza. Le possibilità per gli stranieri di chiedere la cittadinanza italiana sono molteplici, ve ne cito solo tre per non annoiarvi, per adozione, per matrimonio o per residenza. La documentazione che devono avere gli stranieri sono che gli anni di residenza debbano essere continuativi, la fedina penale deve essere ovviamente immacolata, il certificato di nascita deve essere tradotto e legalizzato nell'ambasciata italiana al paese d'origine. Questo fa sì che, insomma, a seconda delle provenienze ci possono essere delle difficoltà. E in ultimo bisogna dimostrare i redditi per il sostentamento del proprio nucleo familiare. La proposta di Jussoli e Jussculture di cui si è discusso negli anni passati che è completamente affossata come legge con la scorsa legislatura avrebbe in qualche modo agevolato le vite dei tanti minori che nascono in questo paese, crescono in questo paese e che probabilmente a 18 anni si ritrovano a fare un iter come gli stranieri adulti per richiedere la cittadinanza. vi ho raccontato queste storie e vi ho fornito questi pochi dati perché per me è importante sottolineare che le scelte dei genitori o gli ostacoli della burocrazia non dovrebbe in alcun modo condizionare le vite dei bambini che nascono in questo paese o che crescono in questo paese. vi ho raccontato queste storie perché mi domando quante occasioni di rinascita siano state perdute come nel caso di Great e Edward quante occasioni potevano fiorire ancora di più o quante non si hanno sbocciate affatto. essere cittadini di uno stato richiede impegno dedizione e sacrificio e per me sarebbe bello che fosse data a tutti la possibilità di sentirsi chiamati cittadini nel paese che sentono proprio. Grazie.